Buongiorno, ben trovati appuntamento di Venerdì 27 luglio 2018 con la nostra consueta rassegna stampa, la lettura dei giornali, oggi in edicola come sempre si apre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, partiamo dal centro come di consueto dall'edizione di Pescara, lo vedete inquadrato il titolo di apertura riguarda l'inchiesta sull'inquinamento del fiume Pescara, indagini che sono state chiuse, ci sono 14 indagati, la procura di Pescara contesta la cattiva gestione del deputato. Scattano i sigilli, vi anticipo che più avanti vedremo anche il servizio sulla conferenza stampa che ha tenuto ieri in procura Pescara il procuratore capo Massimiliano Serpi. Vediamo anche le altre notizie sulla prima pagina del centro, possiamo andare più in basso, vedete la foto riguardo proprio i sigilli, le operazioni ieri portate avanti dagli uomini dei carabinieri forestali e della guardia costiera. Poi l'addio a Marchionne, c'è il ricordo dei compagni, degli amici di scuola, Sergio a scuola era un genio, aveva tutti 10 e poi c'è questa rivelazione, leggiamo più in basso, che arriva dall'ospedale di Zurigo, perché ovviamente la scomparsa di Marchionne ha alimentato anche tanta curiosità perché molti non riuscivano e non riescono a spiegare come questo decesso sia arrivato così quasi all'improvviso, però leggiamo proprio da questo richiamo che riguarda proprio l'ospedale di Zurigo, Marchionne malato grave da un anno e questo è filtrato dal riservo assoluto dei familiari e anche dei medici dell'ospedale svizzero. Andiamo a vedere poi nelle cronache Pescara, bimba epilettica senza cure, la ASL provvederemo, poi cambiando decisamente argomento, sempre a Pescara arriva la festa di Sant'Andrea con il concerto di Massimo Ranieri che chiuderà la tre giorni della festa forse più importante del capoluogo adriatico e poi la cronaca, l'adre in fuga vengono riprese dalle telecamere a Montesilvano. E poi ancora, rogo nell'hotel, paura a Silvi, è accaduto all'alba di ieri, fiamme nella lavanderia dell'hotel Hermitage, sgomberati 300 turisti, ieri vi avevamo proposto anche il servizio nei nostri Tg, fortunatamente non ci sono stati feriti, il lavoro dei Vigili del Fuoco ha permesso di far tornare la situazione alla normalità in poche ore. E poi ancora, scoperta abruzzese su Marte, scienziati a caccia d'acqua nel team i professori dell'Università d'Annunzio, perché la scoperta riguarda il ritrovamento di un lago salato sul pianeta rosso, ovvero su Marte. E poi lo sport, importante in questo caso, i calendari di Serie A sono stati diramati ieri, Ronaldo al via contro il Chievo e poi l'amichevole del Pescara con il Teramo, 2-1, il finale per i ragazzi di Pillon. Buona la prova dei Biancazzurri, più che buona anche quella della formazione Biancorossa che tre giorni fa aveva impattato per 1-1 con il Benevento. Siamo alla prima pagina dell'Aquila del centro, il sindaco Biondi resta in carica, l'Aquila il tarboccio e il ricorso del centro-sinistra sul riconteggio dei voti. E poi vedete, Sante Maria, iniziativa di prevenzione, donne in marcia per battere i tumori femminili. Il calcio, notizie tutt'altro che buone per l'Aquila, anzi pessime per il sodalizio rosso-blu. L'Aquila sparisce per la terza volta, non è stata iscritta al campionato di Serie D. Tifoseria in Subbuglio si partirà e si ripartirà dai campionati dilettantistici regionali. Avezzano, danni da animali, rimborsi del 100% e poi Sulmona, lite al comune, consigliera in ospedale. Vediamo qualche altro titolo dalla prima pagina del centro dell'Aquila. Grande distribuzione in Abruzzo, Movimento 5 Stelle e Associazioni stoppa la legge che sblocca i centri commerciali. E poi gioielli del file, trabocco turchino di San Vito inserito tra i luoghi del cuore. Andiamo avanti, la prima pagina di Teramo del centro, fuoco nell'hotel 300 sgomberati. Ritroviamo la notizia dell'incendio all'hotel Hermitage. E poi è paraplegico, prende il brevetto di pilota di Alianti, questa storia che arriva da Giulianova. Siamo a Teramo, medici scontenti dopo i concorsi, nasce una rete. E poi ricostruzione, mazzocca, senza rinforzi, mollo la delega. E poi Tortoreto, Larit se ne va e libera l'ex istituto agrario. Vediamo anche la prossima prima pagina del centro, che è quella di Chieti-Lanciano-Vasto. Un milione sparito, 5 ore in procura, Chieti svolta nell'inchiesta sull'Unidav, interrogata. Magnate-Slovacca. E poi vedete a centro pagina il calcio, ecco le nuove maglie. Lanciano pronto per il campionato di promozione. Al via anche la campagna abbonamenti per la società frentana. Cronaca, Francavilla al mare, picchia la nonna per avere i soldi per la droga. Chieti, rifiuti, spunta, un buco milionario. E poi andiamo ad Ortona, 100 espropri mai completati. Stop ai riscatti. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Notizia d'apertura riguarda l'inchiesta per l'inquinamento del fiume Pescara. Ci sono 14 indagati. L'altra inchiesta, Pescara-Porto, D'Alfonso, verso il processo. E poi le politiche, le elezioni e i prossimi appuntamenti elettorali. Forza Italia, sondaggio per il candidato presidente. Vediamo a centro pagina la notizia di Silvi. Albergo in fiamme, turisti evacuati. E poi la politica all'Aquila, la politica amministrativa, perché non c'è lana tra zoppa. Ricorso respinto, resta regolarmente al suo posto il sindaco dell'Aquila, Biondi. Andiamo in alto per vedere altri richiami di articoli che ritroveremo all'interno del giornale. Roccarasso, Lino Banfi, voglio tornare a fare il nonno del medico in famiglia. E poi al dannunzio da Pirandello a Dante nel weekend teatro di qualità. E poi il calcio, prima del Pescara, decide Cocco nell'amichevole con il Teramo 2-1 nella gara giocata ieri a Palena. Anche in questo caso vi anticipo che più avanti vedremo il servizio su questa gara, giocata ieri di fronte a quasi 500 spettatori. Siamo alla prima pagina del Corriere della Sera nell'edicola nazionale. Euro è nato, non si discutono, parla il Premier Conte. Tria, non esiste che lasci, possiamo durare 5 anni, dice il Presidente del Consiglio. E poi questa notizia che riguarda Sergio Marchione. Abbiamo visto anche un richiamo prima dal centro. I medici, Marchione malato da un anno. Fiat Chrysler, noi non informati. E la compagna conferma, non sapevano. E intanto il titolo di Fiat Chrysler risale in borse. A proposito di titoli, Facebook, vedete in basso, il crollo più grande della storia. La società brucia in un giorno 126 miliardi timori per i ricavi e le leggi sulla privacy. Andiamo a vedere il prossimo quotidiano che è Repubblica. Conte sfida la Lega, stoppa la TAV, una maxi penale da pagare all'Unione Europea. E poi vedete la foto in primo piano di Sergio Marchione. Marchione è malato grave da un anno. Fiat Chrysler era stata tenuta all'oscuro di tutto. La stampa di Torino, TAV, con teceda il pressing dei grillini, non si farà. E poi vedete questa notizia. I migranti sfondano il muro di Ceuta in 600. Riescono ad entrare in Spagna. E poi vedete anche sul quotidiano torinese. La clinica Marchione era ammalato da un anno. Siamo al sole 24 ore. Crollo storico di Facebook bruciati 120 miliardi. Davvero una notizia che riguarda questo crollo davvero incredibile del quotidiano al sole 24 ore. E poi il fatto quotidiano. Addio all'Air Force. Renzi 150 milioni per non volare mai. Andiamo ancora avanti. Poi tra l'altro dovremo anche recuperare, chiedovenia, la prima pagina del quotidiano. La città che non vi abbiamo mostrato. Lo faremo tra qualche istante. Il manifesto. Mattarella frena il Far West leghista. E poi vedete la foto del manifesto a tutta pagina. Disintegrati. L'asse Raggi Salvini ha raggiunto l'obiettivo. Il River, uno dei campi rom più integrati della capitale, è stato sgomberato. Vediamo anche il messaggero nazionale. Rom, linea dura Salvini-Raggi. Sgombero a Roma con l'ok dell'Unione Europea. E poi vedete Serie A. Parliamo anche di calcio. Via con Ronaldo a Verona. Subito Lazio-Napoli. E Torino-Roma. Il Tempo. Altro quotidiano romano. Così l'Isis arriva sui barconi. Le inchieste del Tempo. Altro resconfitto. Lo Stato islamico è vivo, è vegeto. Scrive il Tempo. E poi vedete la notizia con corredo di foto. Arrivederci Rom. Il Viminale fa sgomberare il Camping River di Roma. Libero e viva Salvini. Caccia i Rom. Dopo il vertice al Viminale. La Raggi fa sloggiare per ragioni sanitarie e nomadi. Fuori legge. Nel campo protetto. Vediamo anche la verità. No, non hanno vinto i Rom. Sgomberato il Camping River di Roma. Sindaco e Ministro dell'Interno passano i fatti, nonostante la sentenza della Corte Europea. Vediamo anche avvenire il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Mattarella, l'Italia non sia far west. E poi vediamo in alto il titolo che riguarda Sergio Marchionne. La scomparsa dell'ex amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobile. Marchionne in cura da un anno, ma Fiat ribatte. Non sapevamo. E poi, un'altra notizia che arriva, che leggiamo in basso. Due anni fa, l'omicidio di padre Amel, che ricordava, e ci ricorda ancora, che tutti siamo fratelli. Vediamo anche un altro titolo, un altro giornale, altri titoli, in questo caso dal secolo XIX di Genova. La TAV non si farà più, Conte, il primo ministro, dà l'ok al Movimento 5 Stelle, ma la Lega non ci sta. E poi il mattino, rogo rifiuti, scontro sui veleni. Vedete il titolo a tutta pagina. E poi Rom, richiamo di Mattarella. L'Italia non sia il far west, dice il Presidente della Repubblica. Torniamo alle prime pagine dei quotidiani abruzzesi, perché vi dovevo la prima pagina del quotidiano della città. Eccola qui, meningite, vaccino contro la paura, migliorano i due ragazzi colpiti dalla malattia. L'Asli Teramo ricorda l'importanza della prevenzione. E poi Silvi, 300 evocati dall'hotel in fiamme, abbiamo visto anche prima e ancora altre notizie. Nuovo ospedale, Giorgio D'Ignazio vuole anche il sesto a Giulianova. E poi Abruzzo pronto per una regione a 5 stelle, niente alleanza con la Lega. Lasciamo anche la prima pagina del quotidiano della città. Possiamo tornare al centro e tornare a parlare della scomparsa di Sergio Marchionne, il genio che prendeva tutti i 10 a scuola. Questo è il ricordo anche commovente di ex compagni di Sergio Marchionne. I compagni di classe si riconoscono nella foto di 57 anni fa scattata a Chieti. Anche il Tg1 fa un servizio sull'immagine in bianco e nero trovata dal centro. Vedete questa foto del 1961 con Marchionne assieme ai compagni di scuola. Al maestro, i medici dell'ospedale di Zurigo rivelano che era malato da un anno, forse il suo corpo sarà cremato. Andiamo avanti. Cugnoli nel giro di 24 ore mandò il nuovo scuola bus. Il sindaco Chiola chiese aiuto a Marchionne e lui gli fece subito trovare il mezzo nuovo. La cugina Laura spiega in un'intervista di quando arrivava in incognito e con la scorta. Questo è il racconto del primo cittadino di Cugnoli, paese natale della famiglia Marchionne. Vedete poi in alto il risvolto finanziario dopo la scomparsa di Marchionne, dopo il brutto colpo, il titolo torna a salire. E John Elkan saluta Marchionne con un necrologio. Proseguiamo, siamo alla cronaca giudiziaria. Pescara Porto, il PM chiude l'inchiesta. La Procura avvisa ad Alfonso, Ruffini, Emilia e altri tre indagati per il Palazzo sulla Riviera. Le difese preparano le memorie. E poi i misteri dell'universo. C'è stata questa importantissima scoperta degli scienziati italiani perché è stato scoperto un lago salato su Marte. A scoprirlo due abruzzessi, scienziati a caccia d'acqua sul pianeta rosso e analogie con la storia della Terra. Nel team anche i professori Flamini e Mitri dell'Università d'Annunzio. E poi in basso i gioielli del FAI, cambiando argomento. Il trabocco turchino tra i luoghi del cuore. La macchina da pesca di San Vito Chietino. I primi posti della classifica del FAI, Fondo Ambiente Italiano. Siamo alla cronaca dalle regioni. Parliamo dello scontro sulla grande distribuzione. Stoppa la legge regionale. Sblocca centri commerciali. Lo chiedono il Movimento 5 Stelle ma lo chiedono anche le associazioni di categoria. Ieri c'è stata una conferenza stampa nella sede del Consiglio regionale a Pescara. Possiamo dunque andare a vedere il primo servizio. Movimento 5 Stelle. Le associazioni di categoria dicono no all'opertura di nuovi centri commerciali anche all'interno di aree industriali. Sì, è stata approvata nello scorso Consiglio regionale una legge che apre questa nuova possibilità all'interno delle aree industriali e questa legge sembrerebbe orientata in particolar modo all'area industriale di Vasto, quella di Punta Penna. Quello che noi vogliamo scongiurare è l'apertura di centri commerciali in zone che sono oramai vocate alla riserva naturale e ad aspetti turistici e ambientali e non vogliamo che si desertifichi nuovamente un altro centro storico, in questo caso quello di Vasto. Per la battaglia che si sta facendo nel nostro territorio perché sapete bene che la regione Abruzzo è una della regione diciamo che è la regione con il maggior numero di metri quadri di iniziamenti commerciali. In un momento poi dove le stesse strutture di centri commerciali stanno avendo problemi, abbiamo visto poco tempo fa problematiche del mercatone 1 adesso viviamo delle vendite in zone di centri commerciali proprio perché siamo arrivati alla saturazione quindi non c'è più spazio noi che cosa facciamo? Promuoviamo ancora l'apertura dei centri commerciali anziché ciò che noi stiamo dicendo da tempo quello del promuovere i centri storici perché se non ripartiamo dai centri storici, dalle piccole botteghe, dalle piccole attività non ci sarà futuro. Commercio da sempre è contraria a nuovi insediamenti commerciali perché non è di questo che la nostra regione e la zona di Vasto ha bisogno dobbiamo combattere la desertificazione dei centri storici. Ho letto la delibera e ho visto che anche altri consiglieri si sono astenuti dal voto e ritengo che ci sia da fare un'altra battaglia come stiamo facendo per la costruzione di altri centri commerciali e se necessario saremo vicini a loro anche in questa. Quello che noi chiediamo al Presidente di Regione Abruzzo è di non promulgare questa legge perché è dannosa per il territorio abruzzese perché ha secondo noi dei profili di illegittimità se dovesse promulgare questa legge il Movimento 5 Stelle segnalerà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la legge affinché venga impugnata. Siamo all'inchiesta sul fiume inquinato di Pescara ci sono 14 indagati sigilli al depuratore del mattatoio e agli scolmatori nel mirino i vecchi vertici dell'Aca vedete l'articolo con il titolo a tutta pagina più avanti vedremo il servizio le indagini dopo l'estate nera del 2015 le reazioni finalmente un'azione forte dopo tanti esposti e dossier soddisfazione di forum dell'acqua e Movimento 5 Stelle per l'operato della Procura Fiorilli e Foschi di Pescara mi piace attendiamo gli sviluppi dicono della vicenda partono i lavori su via Ferrari e via Prati siamo sempre a Pescara e comune stanzi a 100.000 euro in via Remonia pista ciclabile al posto dei parcheggi rampa più larga in strada Catani e via le Primovere un altro ciclista investito l'uomo ha riportato un trauma cranico domenica nella stessa zona era toccato ad un 74enne ancora in ospedale mancano gli integratori per una bimba epilettica il caso che arriva da Pescara appello dei genitori alla ASD per sbloccare l'iter burocratico per le terapie la risposta dell'azienda sanitaria tra qualche giorno erogheremo i prodotti e poi ancora Pescara il sit-in delle associazioni ieri mattina nella zona della Pineta esposto in Procura per salvare il villino Rina proseguiamo Sant'Andrea al Via La Festa aspettando Massimo Ranieri strade chiuse dalla Madonnina fino al Lungo Fiume per Bancarella e Giostri lunedì il concerto gratuito del cantante biglietti solo per le poltrone a 25 euro proseguiamo siamo a Montesilvano la cronaca ladri in fuga riprese dalle telecamere a pochi passi davvero dal comune di Montesilvano e poi un cast speciale fa tappa in città sempre a Montesilvano i protagonisti del film sulla disabilità sotto il segno della vittoria in lizza per il David di Donatello in alto spoltore date della disinfestazione poi sempre a Montesilvano rimborsi dei libri da lunedì è un importante compleanno lo compie la palla a mano di città Sant'Angelo che fa 40 anni festa al pala castagna con l'Adriaticap e la vittoria degli azzurri di Trillini e Savini proseguiamo siamo a Francavilla al mare cronaca minaccia la nonna con le forbici per la droga i carabinieri arrestano un giovane dopo l'ultimo episodio di violenza per i soldi nei confronti dell'anziana e poi ancora Francavilla stadio 35 mila euro per l'adeguamento iniziati i lavori richiesti dalla Lega per le partite di campionato che la squadra giallorossa giocherà ovviamente nel proprio stadio all lo stadio di Francavilla al mare il valle anzuca ancora politica in questo caso siamo a pianella il nuovo piano regolatore in comune i cittadini hanno 60 giorni per le segnalazioni in ospedale arriva il robot per le diagnosi a distanza siamo a penne l'asl avvia il teleconsulto che collega le strutture di penne popoli e pescare il nuovo macchinario consente di intervenire senza dover trasferire il malato e poi a turri valignani folla per la vedova di marsinelle per 60 anni una messa al marito andiamo avanti in basso iniziativa di beneficenza occhio al tappo un lingottino d'oro a chi ne raccoglie di più questa iniziativa che si tiene a piano d'orta in provincia di pescara siamo a chieti inchiesta unidav 5 ore di interrogatori svolta dopo perquisizioni e sequestri si indaga sui soldi spariti e sulla turbativa d'asta alla da vinci in procura la fondatrice slovacca del partner dell'ateneo telematico vediamo più in basso rocca scalegna l'addio all'artista de laurentis oggi era atteso a celano e poi paziente obesa respinta e polemica scoppia il caso al consultorio ginecologa nega la visita all'ordine dei medici ora la asl verifichi siamo a lanciano master sulla gestione dell'ambiente organizzato dall'università di urbino prenderà il via d'ottobre 50 i posti a disposizione vasto panico sulla riviera restato il ladro dell'auto di castaldi senatore del movimento 5 stelle e poi ancora vasto spacciatore in manette indagini sui nomi dei clienti e poi tangenti al cimitero arresti revocati ai tre dipendenti disposto il divieto di dimora vasto i difensori siamo soddisfatti in basso e su bericonad corsa contro il tempo vasto proposte anzianità zerate menore per evitare i licenziamenti il caso arriva in consiglio siamo a teramo paura all'ermitage di silvi fiamme nell'hotel sgomberati in 300 l'incendio è divampato all'alba nella lavanderia del semi interrato ricostruzione mazzocca verso l'addio se a giorni non mi daranno altro personale per ufficio speciale di teramo dovrò rimettere la delega al presidente d'alfonso ieri vi avevamo proposto il servizio con l'intervista a mario mazzocca poi montorio rissa per la abbaiare del cane cinque persone denunciate e poi questa bella notizia che arriva da giulianova paraplegico prende il brevetto da pilota ivan dieci anni fa ha perso l'uso delle gambe per un incidente ma non si è arreso siamo alla pagina della del litorale di teramo della provincia di teramo il comune non pone il divieto via libera e cani in spiaggia siamo a silvi e sempre a silvi modificato l'avviso per il segretario del sindaco e poi pineto cemento vicino all'oasi wwf atricivica chiede chiarezza e poi ancora i lavori nelle aree a rischio a pineto giudicati quelli per il parco castellaro le zone di accesso alla torre di cerrano siamo all'aquila la sentenza del tar ricorso inammissibile biondi il sindaco dell'aquila resta in sella bocciato il tentativo del centro sinistra di ribaltare gli equilibri in consiglio comunale l'opposizione va al consiglio di stato il sindaco ironico io ragazzo di campagna possiamo andare a vedere il servizio su questa vicenda realizzato da daniela rosone niente anatra zoppa il tar da ragione al centro destra il tribunale amministrativo regionale ha dichiarato quindi inambissibile il ricorso presentato dal centro sinistra dopo le elezioni amministrative che hanno dato il governo della città al sindaco pierluigi biondi alla coalizione di centro destra in attesa delle motivazioni della sentenza di merito si immagina che il tar abbia dichiarato valida la tesi sostenuta dal centro destra secondo cui all'appello mancano i 400 voti del seggio 41 e dunque non ci sarà un ribaltone in seno al consiglio comunale dell'aquila la sentenza pubblicata stamattina respinge quindi l'istanza con la quale alcuni candidati del centro sinistra avevano chiesto e ottenuto il riconteggio di alcune schede elettorali in alcune sezioni dopo che alle amministrative del giugno 2017 la coalizione guidata dal candidato americo di benedetto perse al ballottaggio pur avendo sfiorato al primo turno il 50 per cento più uno biondi e la sua maggioranza restano quindi al proprio posto se il tar avesse accolto l'istanza dei ricorrenti il sindaco lo ricordiamo esponente di fratelli d'italia da un anno sullo scranno cittadino più alto si sarebbe ritrovato senza una maggioranza in consiglio comunale senza i numeri dunque per poter governare la famosa anatra zoppa al centro sinistra resta soltanto la possibilità di presentare il ricorso al consiglio di stato restiamo all'aquila cambiamo argomento l'aquila capitale dell'innovazione in arrivo i finanziamenti firmato un accordo tra alla regione il colosso cinese zè per programmi congiunti finalizzati allo sviluppo tecnologico e poi andiamo più a centro pagina decreto sisma i rilievi di mattarelle il capo dello stato interviene dopo la conversione del provvedimento che riguarda anche l'aquila e l'aquila fuori questa la notizia davvero shock che riguarda l'aquila calcio si riparte probabilmente si ripartirà dalla prima categoria il calcio nel capologo di regione sparisce per la terza volta just molla tentativi per una nuova società lasciamo le pagine del centro andiamo a vedere quelle dell'inserto abruzzo del messaggero abruzzo che ricorda marchionne sergio e quel volo con la bici senza freni racconti pieni di tenerezza e nostalgia degli amici d'infanzia lutto cittadino a cugnoli se n'è andato uno di noi parlare il sindaco lo aveva fatto anche proprio nei minuti che erano seguiti alla notizia della scomparsa di marchionne il sindaco di cugnoli lanfranco chiola siamo a pescara sversamenti nel fiume 14 indagati dopo tante denunce la procura presenta il conto coinvolti vecchi vertici di ato h e depuratore i gestori del mattatoio guardia costiera carabinieri e roana della finanza in azione ieri mattina alla madonnina sigilli a 26 scolmatori parla anche il forum h2o fallimento della classe dirigente urgenti i lavori alla rete duale e dunque possiamo andare a vedere il servizio con le immagini anche della conferenza stampa che ha tenuto ieri in procura il procuratore capo della repubblica di pescara massimiliano serpi 14 persone sono state indagate dalla procura della repubblica per l'inquinamento del fiume pescara sono in corso in questione le notifiche degli avvisi di garanzia nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolte anche due società le indagini durate due anni e coordinate dal procuratore capo massimiliano serpi sono state condotte dai carabinieri forestali dagli uomini della guardia di finanza e dalla guardia costiera i reati contestati sono a vario titolo quelli di inquinamento ambientale gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti inadempimento e frode in pubbliche forniture lesioni come conseguenza di altro delitto plurimi sversamenti e responsabilità amministrativa di persone giuridiche a seguito di reato posti sotto sequestro 26 impianti scolmatori di piena dell'impianto fognario di pescara e l'impianto di depurazione scarico del mattatoio nel corso dell'inchiesta erano stati già posti sotto sequestro quattro depuratori e otto fosse imof è giunta a conclusione una complessa indagine relativa all'impinamento del piume pescara e a fulenti del tratto finale dello stesso all'esito della quale il pubblico ministero ha chiesto il suddetto provvedimento di sequestro preventivo che il giudice per le indagini preliminari del tribunale di pescara ha ritenuto di adottare con ampia motivazione questa mattina sono iniziate le attività di esecuzione del provvedimento del gip con i sequestri degli scolmatori di piena dell'impianto fognario di pescara iniziando da quello posto nei pressi della zona maddonina del popo che è stato già eseguito il funzionamento degli impianti sequestrati non verrà interrotto ma proseguirà in regime di custodia giudiziale affidata al funzionario del comune di pescara veniamo eseguitando il sequestro dell'impianto di depurazione e qui è l'aggiunta rispetto al tema che abbiamo illustrato prima degli scolmatori e del sistema fognante c'è anche un aspetto specifico che riguarda il mattatoio comunale di pescara infatti i presso stessi sono stati riscontrati in regolarità nel suo funzionamento tale da giustificare allo stato la misura cautelare odierna quindi è in questa non facile situazione che vi è questo odierno intervento della procura e del giudice per le indagini criminali nella doverosa ottica di salvaguardia dell'ambiente fluviale e costiera tutto questo ovviamente nell'esclusivo interesse primario del pubblico dei residenti degli ospiti e di tutte le attività economiche. Nel registro degli indagati figurano Pierluigi Caputi e Luciano Di Biase entrambi in qualità di commissario unico straordinario degli enti d'ambito della regione Abruzzo il primo in carica fino al 13 aprile 2016 e il secondo a partire dalla stessa data Ezio Di Cristoforo e di Vincenzo Di Baldassarre entrambi in qualità di amministratori e legali responsabili dell'ente gestore HSPA il primo dal dicembre 2008 al novembre 2013 e il secondo dal novembre 2013 al settembre 2016 Bartolomeo Di Giovanni e Lorenzo Livello il primo in qualità di direttore generale responsabile dei settori progettazione e depurazione dell'HSPA e il secondo in qualità di direttore tecnico dell'ente Giovanni Di Vincenzo quale legare rappresentante dell'ATI Di Vincenzo Biofert SRL Mario Adorante in qualità di responsabile tecnico della società Di Vincenzo Dino SPA Alessandro Antonacci in qualità di dirigente tecnico del lato numero 4 pescarese e di responsabile unico del procedimento Giuliano D'Alessio in qualità di presidente del consiglio di amministrazione legale responsabile della società Macellatori Teatini società cooperativa che ha gestito il mattatoio pubblico di Pescara fino al marzo 2016 Mario D'Alessio e Francesca Gagliardi il primo in qualità di direttore del mattatoio pubblico di Pescara gestito dalla società l'arte della macellazione D'Alessio SRL a partire dal marzo 2016 e Francesca Gagliardi amministratore unico della stessa società indagate anche la società ACA e la società l'arte della macellazione D'Alessio SRL Cambiamo argomento andiamo nella parte bassa della pagina vincoli in arrivo per i villini della Pineta soprintendenza in campo ieri le associazioni hanno manifestato con un sit-in in via figlia di Orio nella zona sud nella zona della Pineta Pescara ancora Pescara eventi da Dante a Pirandello un ricco weekend con il teatro di qualità e poi Shapiro e Vandelli stelle del Blue Bar di Francavilla e poi ancora cronaca giudiziaria Pescara Porto nei guai da Alfonso Emilia il Governatore e il suo avvocato di fiducia rischiano il processo per falso e abuso di ufficio vediamo poi più in basso Montesilvano azioni interforze abusivi maxi sequestro alla stazione siamo arrivati alle pagine dell'Aquila ma ci fermiamo ora per qualche istante andiamo a vedere anche le previsioni del tempo poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio seconda parte di mattino 6 siamo alla pagina dell'Aquila del messaggero comune niente anatra zoppa il tar boccia il centro sinistra abbiamo visto prima il servizio della nostra Daniela Rosone e poi le reazioni ma la foglia un'iniziativa pretestuosa a Quagliariello la città ha voluto così in basso amanti dopo l'amicizia su facebook poi lui si trasforma in violenta e poi per quanto riguarda l'arma dei carabinieri avvicendamento al comando provinciale lascia il colonnello Nazareno Luca Sant'Antonio lascia il comando provinciale dell'Aquila il saluto alla città e poi il colosso cinese ZTE pronto a partire il ceo Ucun ha firmato insieme alla regione un accordo che sancisce la piena operatività dell'azienda al tecnopolo l'obiettivo è la sperimentazione del programma 5g perché l'Aquila diventi una città totalmente connessa e poi sisma d'Eramo parlamentare della Lega attacca la senatrice del PD Pezzopane e poi in basso d'amore altre storie nel cortile dell'emiciclo e poi il caso allontanata dei vigili la carovana dei Rom e poi la morte a cento anni di Suor Geltrude la custode del primo museo nazionale vedete questo articolo che riguarda la sconfarsa di Suor Geltrude andiamo avanti Santilli appoggia il piano della regione siamo a Celano impianto in riguo della piana del Fucino per il sindaco si tratta di un intervento assolutamente indispensabile e poi Avezzano ciclista contro una mucca indagata la proprietaria ancora Avezzano Rocco Di Micco presidente dell'urban center andiamo nella parte bassa della pagina Roccaraso Lino Banfi in totale relax a Roccaraso qui si sta davvero bene e poi Avezzano Palazzo Torlonia al via gli eventi e poi invece Sulmona Giostra attesi anche figuranti da Trapani e poi Cucciolo Morto droga in casa del padrone andiamo avanti andiamo a vedere un'altra pagina dall'inserto abruzzo del messaggero quella che riguarda Chieti dopo quella rapina vivo nel panico Ida De Marco chiude la storica gioielliera di via Pollione abbassato le serrande non ho mai dimenticato quel giorno voglio tornare a sorridere e poi l'orgoglio dell'ateneo per la missione su Marte con l'università d'annunzio in primo piano e poi la cronaca amministrativa e politica opposizione all'attacco a Chieti predissesto inevitabile per i revisori bocciato l'assestamento di bilancio andiamo a vedere in basso la cronaca al setacci contratti d'affitto controlli sulle case per stranieri e poi a Francavilla botte alla nonna ottantenne tossicodipendente in manette siamo a basto la moglie di Castaldi colpita e rapinata la consorte del senatore del movimento 5 stelle ha cercato di evitare il furto della sua automobile ed è stata aggredita con un calcio inseguito sul lungomare arrestato uno dei banditi un 24enne barese i carabinieri a caccia dei due complici e poi ancora vasto il senatore del movimento 5 stelle proprio su questa vicenda casia sta meglio ma lo spavento è stato grande lanciano le riconoscono il risarcimento ma nel frattempo è deceduta ancora cronaca tornando a vasto lancia meloni contro gli agenti maxi multa ad un fruttivendolo e poi andiamo più in basso ortona viviamo la serata del commercio accende domani il centro di ortona con la notte bianca e poi lanciano due giorni di festa torricella peligna siamo nell'area frentana per meglio dire con la kermess arte musica e gusto siamo la pagina di teramo del messaggero più manifestazioni in centro così il commercio rinasce la ricetta dell'assessore filipponi ecco i prossimi eventi in programma martin sicuro nuovo regolamento edilizio convocati i professionisti e poi sanità distretto costa valvomano il pd attacca e poi la cronaca rifilavano falsi monili d'oro alle gioiellerie due denunce in basso ipotesi ipotesi cessione iper l'allarme dei democratici questo articolo che riguarda in questo caso la grande distribuzione siamo alla pagina della provincia di teramo in questo caso a silvi l'incendio nella lavanderia dell'hotel ermitage evacuati 300 turisti fortunatamente non ci sono stati feriti o intossicati giulianova picchia la madre per i soldi la donna lo denuncia alba adriatica dopo due anni lo stadio riaprirà all'eccellenza dunque la squadra locale squadra albenze potrà giocare nel suo campo poi martin sicuro si conclude questa sera il martin book festival giulianova centri poste a scerne incontro in comune siamo arrivati alle pagine dello sport dobbiamo andare a vedere invece le pagine interne del quotidiano la città ripartiamo da pagina 3 con l'inchiesta che vede 14 indagati per il fiume pescare inquinato abbiamo visto poco fa il servizio e poi autostrade ambientalisti contro toninelli per il progetto di strada dei parchi la psicosi meningite la paura si combatte con il vaccino e due adolescenti della costa colpiti dalla malattia verso le dimissioni entrambi non erano stati vaccinati e poi ricostruzione lentezze lentezze dello surs di teramo mazzocca minaccia di riconsegnare le deleghe al presidente della regione d'alfonso in basso a teramo i malpancismi maurizio verma si è dimesso dalla segreteria del pd abruzzo pronto per una regione a 5 stelle l'onorevole zennaro lancia la marcozzi alla presidenza e ammette che la lega non sarà un alleato dunque grandi manovre all'interno del movimento 5 stelle in vista delle elezioni regionali del prossimo anno andiamo a pagina 7 dignazio vuole anche il sesto ospedale l'assessore regionale difende il progetto di piano d'accio così costruiremo anche il nuovo ospedale di giulianova dice l'assessore regionale cronaca si scambiano l'identità per ottenere la patente ma l'altezza notevolmente differente non inganna la motorizzazione civile denunciati due furbetti nigeriani e poi democrazia partecipata a nuove regole per i comitati di quartiere e di frazione andiamo a vedere un'altra pagina pagina 9 la cronaca vendono oro finto nei guai due napoletani provavano a truffare tre gioielleri provano a truffare tre gioielleri terramani ma sulla loro strada trovano gli agenti della squadra mobile proseguiamo andando a vedere pagina 10 aiuto mi hanno sfrattato la nonna defunta durante una visita trova il loculo vuoto nessuno della team l'aveva avvisato dell'estumulazione proseguiamo siamo la pagina della provincia siamo a crognaleto passi avanti nel sistema d'allerta del romano crognaleto e pineto tengono 100 mila euro grazie al progetto comunicare per proteggere ieri su questo progetto importante vi avevamo proposto un servizio nel nostro telegiornale con le interviste ai sindaci d'alonso e berrocchio in basso a castellalto più sicurezza sul territorio grazie a 19 nuove telecamere siamo la pagina della val vibrata tortoreto conto salato per la custodia di quattro cani comune di tortoreto condannato a pagare 15 mila euro ad un'associazione e poi lavoro cassa integrazione straordinaria per l'area di crisi della val vibrata e poi santomero municipale carabinieri salvano la vita ad un capriolo in difficoltà siamo la pagina di giulianova il mercatino del lunedì va in via sauro trasferimento da piazza del mare per questioni di sicurezza e poi cronaca esce dal calcere uno degli indagati per spaccio ed estorsione e poi giulianova ancora cita comune e imps per l'esclusione dal reddito di inclusione donna si cita comune imps scusate per l'esclusione dal reddito di inclusione donna si rivolge al giudice per chiedere il riconoscimento del sostegno economico andiamo in basso perché c'è una notizia di cronaca non è un violento ha agito per esasperazione parla l'avvocato del giovane senegalese arrestato per aggressione è messo ai domiciliari proseguiamo andiamo avanti tra poco apriremo poi la pagina dello sport ma siamo ora alle notizie che riguardano l'interland costiero della provincia di teramo partiamo da pineto uno sguardo sull'africa grazie all'incontro di villa filiani e poi ad atri calcestruzzo nella riserva dei calanchi la denuncia di atri civica sul progetto per sistemare i sentieri nell'oasi e poi roseto dames bandieratori e falconieri animano il borgo di montepagano ieri mattina alla presentazione del progetto che vede la partecipazione delle associazioni del comune e degli studenti siamo a silvi 300 evacuati per l'incendio all'hotel ermitage abbiamo parlato ampiamente di quanto accaduto all'arba di ieri a silvi pineto piante e fiori alla polifunzionale grazie all'associazione spazio migliorato con i fondi raccolti da stile libero durante lo scorso natale gran fine settimana nel borgo dei murales i muri raccontano ad azinano di tossicia torna la manifestazione che propone mostre concerti giochi e arte vediamo di recuperare anche la prossima pagina che è pagina 20 ed è la pagina dello sport con questa pagina del quotidiano la città possiamo aprire dunque ufficialmente la pagina dello sport con l'amichevole giocata ieri a palena tra pescara e termo 2 1 il finale per il bianco azzurri mezzo teramo promosso passa il pescara ma il diavolo piace bianco rossi in palla nel primo tempo vantaggio di de grazia pareggia mancuso nel finale il gol di cocco giovedì test in casa per il teramo con la sante gidiese andiamo a vedere il centro come commenta per quanto riguarda questa partita il come commenta il centro questa amichevole tra pescara e teramo ma noi anziché in attesa di vedere proprio la pagina del centro possiamo invece andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri proprio a palena dove eravamo presenti con le nostre telecamere possiamo andare a vedere dunque il servizio realizzato da andrea costantini il pescara batte in rimonte il teramo 2 a 1 nell'amichevole che ormai un classico della preparazione pre campionato delle due principali squadre d'abruzzo utili indicazioni per entrambi i tecnici che hanno schierato formazioni speculari pillona scelto dal primo minuto fiorillo in porta difesa con balzano gravillon scognamiglio e del grosso mediana con memushai brugman e macin davanti antonucci monachello e mancuso la risposta di zichella con levandoschi in campo per 90 minuti mantini altobelli speranza e mastrilli in difesa al centrocampo ragneri con de grazia e spighi in avanti di renzo e bacio terracino ai fianchi di fratangelo buoni ritmi nella prima frazione con un pescara vicino al gol con brugman monachello macin e mancuso il teramo però tiene bene il confronto prova a rispondere e al ventottesimo trova anche il vantaggio con la sventola dalla distanza di de grazia che sorprende fiorillo ancora in gol l'ex maceratese dopo il guizzo di cascia con il benevento a cavallo del gol problema alla schiena per fratangelo sostituito da cappa e noi muscolari per un antonucci fin lì ancora positivo dentro marras il teramo sfiora lo 0 a 2 con speranza ma il pescara a trovare il pari sugli sviluppi di un piazzato con torre di scognamiglio monachello non riesce a fare centro ma ci pensa mancuso a siglare l'uno a uno nella ripresa cambiano quasi tutti gli effettivi su ambo i fronti i ritmi sono decisamente più bassi la gara sembra avviata sull'uno a uno ma a otto minuti dal novantesimo ferretti a terra in area bunino schierato da attaccante esterno dagli undici metri cocco è preciso e segna il quarto gol del suo precampionato quello che decide la michelone per il delfino è il terzo ultimo giorno a palena sabato la chiusura del raduno è in serata triangolare a pineto con la locale formazione ed il fano prima della partita il presidente sebastiani ha detto la sua sulle vicende canutè e cegliento quest'ultimo ceduto a titolo definitivo al catanzaro ha commentato sui social in maniera polemica l'addio al pescara poi nel momento in cui hai in quel ruolo gente come balzano gente come zampano sei costretto a mandare giocare anche i giocatori come vittorini che è un nostro patrimonio e il ministero ha fatto le sue scelte quindi cegliento però una cosa dovrebbe capire che non si può permettere il lusso di sparlare così gratis gratuitamente su una società che lo ha comunque preso e forse se oggi a catanzaro il merito è anche di questa società perché se non fosse passato per pescara probabilmente starebbe ancora da qualche altra parte e canutè è un altro caso possiamo ribattezzarlo come tale o no no canutè non è un caso è comunque un ragazzo che l'altro anno non si è trovato molto bene con l'allenatore che avevamo e probabilmente quest'anno pensava di poter scegliere dove andare canutè è un giocatore del pescara quindi a giorni sarà pescara intanto si beccherà la multa che che la società gli farà per non essersi presentato e poi si aggregerà la squadra e chiederà scusa ai compagni al mister e comincerà a lavorare per guadagnarsi un posto poi se dovesse arrivare qualche richiesta importante canutè andrà via altrimenti un giocatore del pescara è anche importante dopo il pari col benevento anche contro il pescara altra squadra di categoria superiore il terramode è stato buone impressioni specie nel primo tempo prossimo amichevole giovedì al bonolis con la san giustese anche se non manca qualche grana piccioni ci sono delle delle problematiche in questo momento sì ci sono delle problematiche che stiamo verificando anche per la tutela del ragazzo capiremo meglio nei prossimi giorni e per quanto riguarda vitale è un giocatore in prova sta convincendo come come procedono le cose è stato un giocatore importante è un po in là con gli anni ma ma un entusiasmo un'umiltà incredibile quindi si sta dimostrando il giocatore che era e ci potrebbero essere tutti i presupposti per ritenerlo rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti come intervista è arrivato ragneri era uno di quei tasselli che state un po aspettando sì perché è un giocatore di grande qualità un giovane 97 che ha già due anni importanti alle spalle è il profilo che cercavamo dobbiamo far giocare un po di giovani quest'anno per le varie regole per recuperare alcuni contributi quindi lui rispecchia il giocatore proprio che cercavamo noi questo dunque l'ampio servizio sull'amichevole di ieri giocata a palena tra pescara e termo in esclusiva abbiamo ascoltato al microfono di andrea costantini anche le dichiarazioni del presidente del pescara daniele sebastiani che ha parlato di quello che potrebbe essere definito il caso canutè anche di altro di mercato e di futuro siamo alle pagine del centro cocco fa felice pillon teramo k o con onore zichella bene così ma volevo vincere e poi vedete l'altra pagina dedicata a questa amichevole e poi l'intervista al neo biancazzurro cristiano del grosso un sogno che si avvera per il giocatore nativo di giulianova non ci speravo più voglio la serie a e guarda al futuro con fiducia palazzi che ci riprova l'infortunio e alle spalle prometto che darò il massimo e poi la serie d con questa notizia shock che riguarda l'aquila l'aquila che non parteciperà al prossimo campionato tifosi contro tutti davvero quella di ieri una giornata tristissima per il sodalizio rosso blu per l'aquila calcio che per la terza volta manca l'iscrizione al campionato andiamo avanti lasciamo il calcio parliamo di basket di sinergia tra tre club unibasket quando l'unione fa la forza per sognare in grande amatori pescara where e pescara antoniana formano un'unica cabina di regia mettendo insieme 600 tesserati e diversi territori e poi in basso di stefano conquista il cittadino all'anno siamo al podismo il 26enne avezzanese si aggiudica la gara podistica davanti a bucci e iachini lasciamo le pagine dello sport del centro andiamo a vedere quelle del messaggero pescara decide cocco sul rigore 2 a 1 come detto come abbiamo visto dal servizio la vittoria dei biancazzurri sul teramo le dichiarazioni del presidente sebastiani canute rientra ma verrà multato zichella un esordio all'agrodolce soddisfatto comunque il mister biancorosso della prova dei suoi vedete anche sul messaggero la notizia della sparizione dell'aquila dio alla serie d e poi la sinergia l'unibasket l'unione fra tre club ovvero amatori pescara we are ortona e pescara basket e poi la serie d non ci sarà l'aquila nel prossimo torneo ci saranno altre formazioni abruzzesi tra queste l'avezzano che inizia la preparazione in 33 al raduno nell'impianto di luco dei marsi e poi in basso il beach volley europei under 22 cappio parte con il piede giusto e poi a pineto tino pavone il pineto e l'africa unico filo tra calcio e solidarietà andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali prima di salutarci siamo alla gazzetta dello sport scalata reale ieri sono stati diramati i calendari del massimo campionato ronaldo debutta a verona viotosto per napoli e lazio derby inter milan il 21 ottobre vediamo le gare della prima giornata sono alcune eccole qui sono tutte le gare del primo turno 18 19 agosto dunque si partirà molto presto in serie a questo il quadro completo delle partite atalanta frosinone bologna spalle chievo verona juve empoli cagliari lazio napoli milan genua parma udinese sandoria fiorentina sassuolo inter torino roma siamo al corriere dello sport iguain più sarri che mai milan dopo il verdetto del tassi in arrivo limiti pesantissimi uefa su operatività e tetto ingaggi dunque iguain potrebbe andare a londra giocare con il celsi e poi calendario vi dicevo ronaldo la prima è a verona con chievo juve nel primo turno di campionato per la lazio vedete in alto mercato correa e badeli doppio colpo del club bianco celeste chiudiamo con tutto sport bonucci vuole ronaldo ovvero vuole la juve si avvicina il ritorno del difensore in bianco nero e questa operazione potrebbe spingere iguain al milan e poi serie a come detto cristiano nonaldo come diego debutta al bentegodi perché nella prima giornata ci sarà chievo verona juventus nella seconda subito una gara di cartello juventus lazio ma anche napoli e milan dunque campionato che entra subito nel vivo da segnalare nella terza giornata la sfida di san siro tra milan e roma dunque dinamati calendari di serie a ci sarà davvero di che divertirsi nel prossimo campionato anche grazie alla presenza di cristiano nonaldo noi siamo giunti al termine così dell'appuntamento di oggi con mattino 6 io ringrazio silvia gentile in regia ringrazio voi per averci seguito per quanto riguarda l'informazione della nostra rete vi rimando alle 14 per la prima edizione del tg6 mattino 6 invece tornerà domani puntuale alle 8 buona giornata grazie a tutti